È polemica sui social network. Dopo la visita di Matteo Salvini, vacanza in Toscana al caseificio della famiglia Busti a Fauglia, uno dei più grandi della regione dove il leader della Lega si è lasciato scattare alcune foto con la mascherina abbassata mentre annusa gli aromi dei formaggi appena prodotti. Foto che lo stesso leader leghista ha poi pubblicato sulle proprie pagine social, scatenando l'ira di sindacati, avversari politici ma anche semplici cittadini. Ad accompagnare Salvini la candidata alla presidenza della Toscana per il centrodestra, Susanna Cercardi. Un esempio pessimo che ride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha dichiarato Francesco Iacovone del Cobas nazionale. Non è accettabile che un senatore della Repubblica pieghi le norme mettendo a rischio i lavoratori per la sua campagna elettorale. Mi chiedo come sia possibile che a questo energumeno sia consentito di sputazzare sul formaggio che poi mangeremo, commenta il governatore della Toscana Enrico Rossi su Facebook. Mentre molti inneggiano al boicottaggio sui social, il caseificio nel Pisano, che da lavoro a 120 persone dal canto suo si difende ricordando a tutti che nello stabilimento ha sempre ospitato esponenti politici di qualsiasi schieramento. Poche settimane fa vi aveva fatto visita anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Toscana Eugenio Gianni.